Giovedì 8 novembre qui nel Teatro Politea di Giatanzaro concluderemo con un'artista internazionale, un'artista che ha raggiunto veramente un successo planetario e che riesce nei suoi concerti appunto a fondere sia la musica classica, il pop, il jazz, stiamo parlando di Stefano Bollani ed è l'unica data prevista in Calabria per questo concerto nuovissimo, mai presentato prima appunto nel Sud Italia che ha come titolo Che Bomb, un'espressione classica brasiliana appunto per indicare che è bello, che è divertimento che è poi la matrice di questo concerto che vedrà appunto brani originali composti da Stefano Bollani su temi famosi brasiliani e ad accompagnarlo sarà una compagine di assoluto valore perché si tratta dei più grandi musicisti brasiliani una compagine già collaudata perché appunto è la stessa di Carioca, il precedente album di Bollani e quindi appunto sarà un concerto pieno di ritmo, di energia, di passione pensate sono ben tre i percussionisti che accompagneranno Stefano Bollani e poi ci sarà al contrabbasso Jorge Helder e al pianoforte l'inimitabile Stefano Bollani è un tour internazionale che è partito dal Brasile per poi appunto avere date in tutto il mondo e pensate al giorno prima di Catanzaro sarà a Parigi e poi proseguirà per Malaga, Madrid, Tel Aviv e tutte le principali capitali del mondo Rossella Galati per la C News 24